Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 30 Caserta-Salerno, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, per lavori, è chiuso lo svincolo Sarno in uscita in entrambe le direzioni. L'uscita alternativa consigliata, provenendo sia da Caserta che da Salerno, è lo svincolo Nocera Pagani. Sulla strada statale 145 Sorrentina, dalle 21.30 di stasera alle 6.30 di domani, per lavori sul viadotto San Marco, è chiuso il tratto compreso tra le uscite Castellammare-Ospedale e Castellammare-Villa-Cimmino in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Salerno, fino alle 6 del 30 marzo, restringimento di carreggiata tra le uscite Fratte-Vierno in direzione Ponte Cagnano. Ma per queste ed altre informazioni vi rimando al nostro sito, l'indirizzo è www.muoversi.regione.campania.it. Vi ricordo che potete scaricare la nostra app, quella di Muoversi in Campania, per rimanere sempre aggiornati in merito alle notizie sulla viabilità del trasporto pubblico locale. Infine potete iscrivervi alla nostra newsletter, che è a cadenza quindicinale. Un consiglio per chi si mette alla guida, mantenete la distanza di sicurezza, lacciate le cinture e non utilizzate il cellulare. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuora.